A tutti voi la più cordiale buonasera, festeggiamenti ieri sera a Lucca per i 110 anni di storia della Lucchese. 25 maggio 1905, 25 maggio 2015, la Lucchese ha festeggiato i 110 anni di vita, ora come allora l'amore per i colori rossoneri è grande, intatto. Con il solito entusiasmo, un pizzico d'emozione che ha contagiato gli almeno 300 tifosi che si sono radunati, esattamente 110 anni dopo, dietro il coro di San Michele, dove n'era ormai lontano, 25 maggio 1905, come dicevamo, un gruppo di coraggiosi pionieri decise di dare vita alla Lucchese, in un primo tempo chiamata Lucca Football Club. Sin da allora i colori erano rossonero e i tifosi rossoneri di oggi, Lucca e United in testa con Gazzetta Lucchese, hanno deciso di fare le cose in grande per festeggiare la ricorrenza. Dai locali dove nacque appunto la formazione rossonera sono usciti come per magia 16 fondatori rossoneri vestiti con abiti di tutto punto che hanno riportato all'epoca di quell'atmosfera incredibile. E dopo aver sottoscritto l'atto di fondazione con fare con punto, sono usciti fuori dove gli attendevano tanti tifosi e anche tutta la squadra, la lucchese di oggi, mister Galderisi e il direttore generale Galli in testa, oltre a tanti ragazzi del settore giovanile, per ricevere gli applausi. La lucchese è come se fosse ancora una volta nata, all'esterno è stata apposta una targa che dice tutto, qui in una giornata di pioggia prese forma al calcio a Lucca, prese forma al sogno che ancora oggi fa battere tanti cuori naturalmente rossoneri. Ma le sorprese non erano finite, con due carrozze il gruppo dei fondatori è stato portato alla loggia dei mercanti, al bar Pult dove si è ripetuta tra i cori dei tifosi la foto celebre, stesse pose, stessi o quasi vestiti. Per ripetere, 110 anni dopo, la magia del brindisi e di un brivido che ha contagiato tutti. Ecco la sorpresa a lungo nascosta dagli organizzatori, ripetere tutto quanto fatto da quei pionieri 110 anni fa. Da qui via la festa, dove in piazza Guidiccioni si sono alternati giocatori, filmati dei momenti più belli della lucchese e tifosi, una festa che è andata avanti e resterà ben impressa nel cuore di ognuno dei tifosi, con un grande assente, dobbiamo dirlo per concludere, il presidente della lucchese, Andrea Bacci. E a proposito del presidente Andrea Bacci, vi annunciamo che sarà il gradito ed atteso ospite della 35esima, ultima puntata stagionale del programma sportivo Curvo Ovest, giovedì sera a partire dalle ore 21. Gigi Buffon lascia la carra rese in una nota da Etonia Mari, nella quale il portiere della Juventus e della Nazionale si dice deluso dall'ambiente e annuncia che il 30 giugno sarà l'ultimo giorno da patron della società toscana che faceva parte quest'anno del girone della lucchese. Forse, conclude Buffon, dovremmo tutti prenderci un periodo di riflessione, città, imprenditori e tifosi, per capire se realmente interessa una squadra che rappresenti la nostra realtà nel campionato di Lega Pro. Una breve, al termine della partita tra Ortonovo e Viareggio, di un torneo che si è svolto a Ricortola, torneo a livello giovanile. L'allenatore della squadra dei Pulcini 2006 del Viareggio Young è stato colpito con un pugno da uno spettatore che gli ha procurato contusioni giudicate guaribili in 15 giorni. Le indagini sono a cura dei carabinieri. Ed ancora, per quanto riguarda invece il calcio dilettante, Rialforte Querceta ha confermato la guida tecnica della prima squadra anche per la prossima stagione, Maurizio Cerasa, con il quale ha concluso la stagione quest'anno in modo molto positivo. Il mister sta già lavorando in grande sintonia con il direttore sportivo Raffaele Pinzani. E grazie ad una cavalcata esaltante, ad una finale combattuta vinta ai rigori, il Porcari si è giudicato con grande merito il campionato italiano ECS di calcio a 7, esattamente a 10 anni dalla vittoria dell'Alto Pascio. Nella finalissima con il Frosinone, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e l'1-1, rete di miserendino dei supplementari, i rigori hanno premiato i Porcaresi con il risultato finale di 6-5. Il ciclismo Francesco Chicchi dell'Androni Venezuela sarà al via da domani del Giro del Belgio. Breve corsa a tappe che si concluderà domenica 31 maggio. Il velocista di Nocchi di Camaiore, che ha rinunciato al Giro d'Italia, spera di aver ritrovato una buona condizione di forma e di essere protagonista sulle strade del Nord. Sempre a proposito di ciclismo, a Montignoso di Massa Carrara, nel trofeo Oro in Euro, la formazione della Michela Fanini Record Rocks, diretta da Giuseppe Lanzoni, ha colto un bel secondo posto con Lara Vieceli, che si è resa soltanto ad Arianna Fidanza nella volata finale di un gruppetto di cinque fuggitive. Vediamo appunto la Vieceli sulla sinistra del teleschermo, sul podio, insieme alla vincitrice Arianna Fidanza. Siamo al basket, un graditissimo ritorno al Gesam Basket Le Mura Lucca, quello di Francesca Dotto. Lucca a Venezia andata e ritorno. Il percorso sportivo, ma anche umano, di Francesca Dotto, che dopo una sola stagione trascorsa in laguna, con tutte le ambizioni e le prospettive che ciò comportava, ha deciso di tornare a casa, che per la giovane play della nazionale italiana è il Gesam Gas Le Mura, in Soldoni Lucca. Basti pensare che al suo arrivo, in un locale della Piana, c'era tutto lo staff tecnico e dirigenziale della società biancorossa, il presidente Cavallo, l'ADS Gorlin, il coach Diamanti e il suo vice Piazza. Lucca rivoleva la sua Francia, lei rivoleva fortemente Lucca. Adesso sono la giocatrice di Lucca e sono molto contenta di esserlo. Mi ha convinto molto il progetto, il programma tecnico di Lucca e di Mirko. Per quest'annata passata a Venezia, penso che per come sono fatta io come persona, personalmente, preferisco magari stare in un ambiente un po' meno professionistico e un po' più familiare. Sul piano tecnico sta nascendo una squadra interessante, diciamo pure competitiva, da primi posti. Insomma, il rinnovato progetto, oggi suol dirsi così, ha convinto appieno anche l'ADotto. Però sono convinta che la squadra che si sta delineando è una squadra competitiva e ambiziosa e quindi questi, diciamo che sono i presupposti migliori per partire col piede giusto e quindi sono sicura che ci divertiremo, magari faremo anche divertire e penso che faremo un buon campionato. Ma non è finita qui, poiché al superbo quintetto base, Dotto, Crippa, Pedersen, Harmon e Boita, il roster sarà completato probabilmente con la conferma delle giovani reggiani e templari e l'acquisizione di un altro elemento in grado di ruotare con le titolarissime. Il nome della Gatti del Cuscagliere è sempre in pole. Infine, annotazione sull'inizio della preparazione che come sempre avverrà intorno al 20 agosto, la data del 24, che è un lunedì, pare più che plausibile. Motori, il prossimo weekend, il team di Pro Car Motorsports sarà impegnato con la Citroen di SR3-R5 sulle strade del 22esimo Rally del Taro, secondo appuntamento dell'International Rally Cup. L'equipaggio lucchese, composto da Rudy Michelini e Michele Perna, condurrà la performante vettura francese Gommate Apirelli sulle strade della provincia di Parma con l'obiettivo di mantenere salda e migliorare, perché no, l'attuale seconda posizione assoluta nel campionato. Chiudiamo con il tennis, perché si è concluso il primo turno del tabellone principale del torneo Open Femminile Città di Viareggio, un torneo dotato di 4.000 euro di monte premio, almeno per quanto riguarda questa prima settimana dedicata al settore femminile. Da domani il torneo entrerà nel vivo, le entreranno in scena le prime della classe, che quasi certamente poi si giocheranno il titolo, tra le quali ricordiamo la Grimalska, numero 388 al mondo, ma ancora la Gabba, la Di Sarra, la Zucchini e soprattutto Corinna Dentoni, che ha il miglior best ranking in carriera di tutte le stando stata numero 132 del ranking VTA nel 2009. Ricordiamo che l'ingresso sui campi del Tennis Italia Viareggio è libero per tutta la durata della manifestazione. Magari contiamo, se ce la faremo nei prossimi giorni, di proporvi anche qualche immagine di questo bel torneo, poi la prossima settimana toccherà al torneo maschile. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva, vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza e l'ultima parte. A tutti voi la più cordiale. Buonasera.